Adesso vediamo che oppure questo è pulito e questa è la camera di Ciccio che è al posto più morbido di casa Flaminio Il posto più morbido e pulito di casa Flaminio Non mi quadrei il letto Stiamo continuando a fare la dimostruzione di casa Flaminio che è pulita Stamattina questo pavimento è stato pulito circa quattro volte E risulta ancora sporco tenendo conto che ieri sia stata la signora Piera Amo per il cazzo insieme alla signora Enzo Mi piace sinceramente farlo letteralmente schifo Qui possiamo ammirare una bottiglia di Ciro Rosso Classico Librandi e una bottiglia di Grotone Rosso Oh che bella Che verranno aperti nei prossimi due giorni Affortunatamente Fortunatamente Vabbè è finita la sera